Non ti nego, dopo una vittoria così rotonda, penso per me, ma come per tutti gli allenatori, il dubbio di come la squadra approccia la settimana sia grande. Ho visto una squadra seria, determinata, affamata, che vuole raggiungere i 40 punti il prima possibile. Perché non possiamo permetterci il lusso di scommettere che 36, 35, 38 possano bastare. Per raggiungere il nostro obiettivo abbiamo bisogno di tutti, non a chiacchiere, ma a fatti. Il Tuku per noi è un giocatore importantissimo e sono convinto che diventerà un giocatore importantissimo anche per la nazionale argentina. Perché è un giocatore che non ha età, è vivo, è determinato, fisicamente è straordinario. Sono convinto che chi giocherà con caratteristiche diverse avrà lo stesso un rendimento altissimo. Le partite sono tutte importanti, le partite sono tutte da vincere. Quindi dato per scontato questo ti dico che sono d'accordo con te, che la continuità ci avvicina all'obiettivo. Il nostro obiettivo è raggiungere i 40 punti il prima possibile e poi staremo a vedere.